Giovanni Nuti, il fratello dell'artista e Fabiana D'Urso hanno scritto Tutti Nuti, un libro a quattro mani per ricordare ed omaggiare Francesco Nuti, un libro che vuole essere un viaggio intenso attraverso la sensibilità di Francesco, ripercorrendo il suo essere profondo attore, regista, cantore, amante e vittima dell'amore, quello vero. È un piacere avere ai nostri microfoni Giovanni Nuti, fratello di Francesco, un artista che ci ha lasciato davvero troppo presto. Giovanni, benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie della vostra attenzione, grazie mille, grazie. Allora signor Nuti, noi siamo qui a parlare di un libro che è uscito da qualche mese, che in qualche modo racconta tutto quello che c'è da sapere sul suo fratello, perché parliamo del Francesco Nuti artista, del Francesco Nuti poeta, ma anche del Francesco Nuti uomo, del Francesco Nuti fratello, quello che lei non poteva non raccontare in questo libro. Sì, diciamo che il taglio di questo libro non è semplicemente tecnico o cinematografico o storiografico, ma vuole entrare anche in merito ai sentimenti di Francesco alle strade di Prato che lui attraversava insieme a me quando eravamo più giovani, alle piazze. Insomma, ecco, quindi è un libro che parla non soltanto appunto della storia del grande cineasta, ma del suo rapporto con la città, ecco. Un libro che ha avuto una genesi un po' particolare, perché inizialmente da quello che ho letto non ve lo volevano pubblicare. Sì, è successo questo, che la Fabiana mi contattò qualche anno fa chiedendomi una collaborazione per questo libro. Io fui molto contento di lavorare a questo testo e speravamo che ci fosse un certo interesse da parte dell'editoria, invece poi si è dimostrata non molto attenta, forse cercavano qualcosa di più legato al gossip e invece è un testo fondamentalmente intimo, insomma, ecco, pulito. E quindi abbiamo deciso di andare avanti comunque per la nostra strada e di pubblicarlo come abbiamo fatto, ecco. Il libro si intitola Tutti i Nuti, che è stato presentato, mi sembra, proprio a novembre, in un grande evento, in un cinema. Sì, sì. Tutti i Nuti, che potrebbe anche significare tutti i Nudi, no? In qualche modo significando la volontà di mettere a nudo un po' certi aspetti della personalità di Francesco e anche mia. Insomma, ecco, Francesco viene fuori non soltanto, come ripeto, come il grande cineasta, l'attore, il comico, ma anche come il poeta, il pittore, la persona che aveva una vita intima molto profonda, se tu vuoi anche una vita intima, anche un po' melanconica, ma era forse la sua forza, mi sembri, ecco, di essere appunto un poeta fondamentalmente. Un poeta che è stato, secondo me, troppo poco ricordato quando era in vita, soprattutto nell'ultima fase della vita. Gli amici sicuramente lo hanno supportato fino alla fine, alcuni eventi in cui era ricordato, omaggiato, vennero anche i più grossi big della Toscana, però dal grande pubblico, diciamo dai mass media, forse è stato un pochino lasciato da parte, qui c'è quasi una specie di scissione, cioè il grande pubblico, diciamo la gente l'ha sempre amato, vediamo anche sul web i vari club che ci sono formati, riguardo a Francesco, l'ha sempre seguito, l'ha sempre sostenuto, lo sostiene tuttora, diciamo, come se fosse ancora vivo in qualche modo. Dall'altra parte, ecco, il mondo strettamente cinematografico l'ha un pochino, non dico dimenticato, ma certamente c'è una strana difficoltà, per esempio, a vedere film di Francesco in prima serata, no, sulle reti nazionali. Io credo che dopo la morte di Francesco una serata, due serate dedicate a un personaggio come lui sarebbero state più che giustificate, ecco. Ce l'aspettavamo anche noi, ecco, una cosa del genere. Come mai, secondo lei, c'è questa, diciamo, non dico ritrosia, perché poi è stato ricordato, però forse è stato valorizzato meno di quanto avrebbe dovuto. Allora, da una parte c'è una specie di damnation memoria, no, perché Francesco è stato anche un personaggio scomodo, la sua depressione, il suo alcolismo, diciamo, le cose come stanno, ha dato un po' una descrizione del personaggio, non dico maledetto, ma insomma poco simpatico. Questo da una parte. Dall'altra poi Francesco è sempre stato un attore e un regista che forse non corrispondeva al cosiddetto politicamente corretto, no, anche a certi temi, basta pensare a donne con le gonne, no, in cui un uomo che va in crisi grave, che viene ovviamente dal film condannato, no, in qualche modo criticato, certamente, prende questa donna e la incatena. Ecco, sono temi che forse ora sono un pochino top secret, come dire, no? Se sono un po' più vicinosi. Sì, sì. E poi, facendo una battuta, è stato anche, tra virgolette, sfortunato perché se n'è andato nel giorno della morte di Silvio Berlusconi, che ha in qualche modo monopolizzato un po' tutti i mass media, no? C'è stata questa coincidenza, però con un po' di buona volontà, non dico subito, ma insomma dopo qualche settimana si poteva comunque rimediare. Io penso che si possa rimediare ancora. Il tempo c'è, il suo lavoro rimane lì e nessuno lo tocca, però credo che ci si debba pensare un po' su questo. Io, per quanto posso, e anche Fabiana, per quello che può, faremo tutto il possibile per mantenere vivo il ricordo e il valore di mio fratello, che come ripeto non è soltanto il personaggio del cinema, ma è anche appunto un po' era, ha scritto tante cose che dovrebbero, spero, essere pubblicate prima o poi. Lei è vicino proprio fino alla fine, no? Noi siamo sempre stati in dei fratelli molto legati, naturalmente come tutti i fratelli avevamo anche i nostri momenti di difficoltà, di crisi, no? Tra l'altro fra me e lui c'è sempre stato un rapporto molto chiaro, io nonostante che lavorassi per lui, diciamo, fra virgolette, ho firmato tutte le colonne sonore, però non mi perisevo a criticarlo laddove mi sembrava fosse necessario e lui accettava questa critica con un bilanciamento fra me e lui molto bello, no? Con un'apertura che ovviamente era disponibile anche alla critica più dura, ma poi portava a una conclusione positiva, diciamo, ecco. C'è stata molta polemica quando da malato Francesco Nuti andò ospite nel programma di Barbara D'Urso, no? Che poi se non sbaglio è la sorella proprio di Fabiana che fa il libro con lei. Ecco, com'è stato magari vederlo in quella situazione? C'è stata da, insomma, se ne è parlato tanto? Ma lì c'è stato uno scivolone e forse anche un'incomprensione nell'organizzazione dell'incontro. Io ero lì accanto a Francesco, dovevo essere la voce di Francesco e spiegare quali erano i suoi progressi, i suoi anche progetti per il futuro. C'era questo film in Ponte, che poi per ora non viene fatto, Olga è fratella Stibilli. E lì però poi, ecco, è caduto, diciamo, la tradizione è caduta su l'elemento emozionale che non ha reso giustizia, diciamo, al momento di ripresa di mio fratello, ecco. Forse è un po' troppo, magari si è abusato tanto da un determinato punto di vista e poco sull'altro. Sì, senza dubbio, senza dubbio. Anche gli ospiti in studio forse non erano sufficientemente consapevoli di quello che succedeva. Quando con tutta bontà, voglio dire, Mietta, gli ha detto riprenditi Francesco che così andremo a cantare a Sanremo e lì ovviamente c'è stato il momento di crisi perché Francesco si è messo a piangere, era molto sensibile a questo aspetto. Lui non poteva più cantare, anche se si stava riprendendo e forse quella battuta è sicuramente stata involontaria, diciamo, buona fede. Però ha creato in lui un momento di molta tensione, di molta commozione. Anche in me, devo dire. credo che poi altre apparizioni televisive non ci siano state, no? Dopo quella. Mi pare con Magalli una successiva. Poi Francesco non vuole più fare altre cose, insomma. Credo che fu saggio anche. Francesco deve essere ricordato per il lavoro che lui ha fatto, no? Magari anche per il lavoro che ancora deve essere scoperto, come ripeto, i suoi scritti, la sua pittura. E in questo libro appunto Nuti, tutti Nuti, parla anche di questo aspetto qui, che da pochi è conosciuto, ecco. Quindi tutto quello che ancora può essere e può esserci di Francesco Nuti. Andiamene, sì, 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 questo senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio. Senta Giovanni, dove lo possiamo trovare questo libro? Eh, questo libro si trova online, bisogna ordinarlo online. Sta avendo un riscontro positivo da parte del pubblico. È un libro onesto, scritto con molta semplicità e chiarezza. Ci sono tutti i punti essenziali che abbiamo un po' accennato anche ora insieme a te. Quindi io spero che il pubblico lo possa apprezzare sempre di più, ecco. Allora, ricordiamo quindi tutti Nuti, Fabiana D'Urso e Giovanni Nuti, per ricordare Francesco Nuti come dovrebbe essere ricordato. Sì, senza dubbio, sempre, sempre. Grazie Giovanni, grazie mille. Grazie, grazie a voi l'attenzione. Grazie, grazie. Anche gli ortaggi ti mandano in malora, malora corsi di nuoto, nessuno ha preparato, perché su foglie non c'è che ha navigato, le foglie che cascano, si vide anche le pappelle, un desiderio. Primo ottobre, è un giorno fantasioso, è l'aria in mite, fa l'estroso, è primo ottobre, è un giorno fantasioso. Primo ottobre, primo, 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 Primo ottobre, primo, 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 primo. Grazie a tutti.